Buongiorno, buon mercoledì dalla redazione di La Cineus 24 e da Alessio Bonpasso. Come ogni mattina entriamo dentro le vostre case per anticiparvi e soprattutto farvi vedere ciò che poi troverete stamattina in edicola sui quotidiani nazionali e soprattutto locali che preferite, notizie che evidentemente hanno caratterizzato la giornata di ieri e che approfondiremo anche attraverso i nostri servizi. Partendo dalle notizie nazionali ma oggi notizie internazionali con un nuovo allarme terrorismo, un nuovo attentato, un nuovo attacco kamikaze. Siamo in Turchia, ad Istanbul, terrore in aeroporto, questa è la prima pagina di Repubblica ma più o meno i titoli saranno gli stessi, comunque simili su tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali ed internazionali. Istanbul, terrore in aeroporto, kamikaze e spari tra la folla, in tre si fanno esplodere almeno 32 morti e oltre 100 feriti. Chiuso. Lo scalo e le immagini davvero drammatiche che si sono susseguite per tutta la notte. Nel dettaglio attacco kamikaze contro l'aeroporto internazionale di Istanbul, il principale proprio in Turchia. Il primo bilancio parla di almeno 32 morti e oltre 100 feriti. Tre gli attentatori che si sono fatti esplodere ma il commando pare fosse composto da sette persone di cui una arrestata. Molto probabile la matrice dell'Isis. Lo scalo è stato chiuso. Questa è la notizia principale che troverete su tutti i quotidiani ma si parlerà ancora dell'effetto Brexit. Il dopo uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il Parlamento proprio europeo attacca Inghilterra fuori subito il Labor. Sfiducia Corbyn. Il Parlamento europeo chiede alla Gran Bretagna di avviare la procedura di uscita il prima possibile. Intanto a Londra i deputati laboristi sfiduciano il leader Jeremy Corbyn. Proprio gli inglesi si erano detti proprio nelle ultimissime ore abbastanza attendisti proprio per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Poi le misure per proteggere il credito. Visco, evitare una crisi del sistema. Notizia che ritroverete anche sulla prima pagina del Corriere della Sera e poi ovviamente anche sul Sole 24 Ore dove poi viene spiegata in maniera particolare quella che potrebbe essere la procedura nel dopo Brexit da un punto di vista economico e finanziario. Prima pagina del Corriere della Sera. Lo vedete in primo piano a sempre l'attentato di Istanbul. Bombe e spari sulla folla. Strage in aeroporto. Un commando di sette persone. Secondo la polizia obiettivo all'aeroporto di Istanbul in Turchia sono entrati con Kalashnikov e bombe al terminal internazionale. Poi l'inferno. Spari sulla folla e le esplosioni. Un poliziotto ha risposto al fuoco uccidendo uno dei terroristi. Altri due si sarebbero fatti esplodere. Alcuni sarebbero in fuga. Per terra i corpi senza vita di 31 persone. 60 feriti. Alcuni dei quali gravi. Per la polizia i terroristi sarebbero dell'Isis. Poi dicevamo Draghi per cercare insomma di arginare l'effetto Brexit. Spinta sulle banche. Il caso del Regno Unito. La BCE. Impatto negativo sul PIL dello 0,5%. Renzi. I nostri risparmi sono al sicuro. Nel dettaglio la Brexit può avere un impatto negativo fino allo 0,5% del PIL della zona euro e l'ammonimento del Presidente e la BCE Mario Draghi al vertice europeo. Bruxelles. Non possiamo permetterci di risolvere i problemi delle banche. Di non risolvere i problemi delle banche. Il Premier Matteo Renzi. Tutele per i risparmi. Ieri intanto l'Europarlamento ha votato per un'uscita rapida del Regno Unito dall'Unione Europea. Come hanno chiesto proprio gli inglesi nelle ultimissime ore dopo il referendum. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al sole 24 ore per andare più nel dettaglio sull'aspetto economico e finanziario. Soprattutto dopo le vicissitudini della Gran Bretagna fuori dall'Eurozona. Europa Unita contro Londra subito fuori. Rimbalzano le imborse. Draghi Brexit. Frena l'Eurozona. Rischio globale di svalutazioni. Lo vedete nel dettaglio. Il Parlamento Europeo, l'Istituto straordinario, ha approvato a larghissima maggioranza una monzione che chiede l'uscita immediata di Londra dall'Unione Europea. Intrasingente. Il Presidente della Commissione Juncker. L'agenda la dettiamo noi. Sempre a Bruxelles il Premier dimissionario inglese Cameron è stato accolto con imbarazzo e gelo al vertice europeo. Il Presidente della BCE Draghi avverte che l'uscita della Gran Bretagna avrà un impatto negativo sul PIL dell'Eurozona pari allo 0,3-0,5% nei prossimi tre anni. Draghi ha anche ribadito la necessità di affrontare i problemi delle banche. È messo in guardia dalla corsa la svalutazione competitiva su scala globale. Intanto le borse rialzano la testa. Dopo le pesanti perdite innescate dal voto inglese Milano la migliore con un più 3,3%. Pieno di richieste per l'asta botta 6 mesi. Lo spread BTP Bunt chiude a 142 punti. Proprio l'analisi, se volete approfondire, all'interno della sole 24 ore. Niente privilegi. La Gran Bretagna e Londra non potranno fare quello che vuole. Poi anche la notizia di Istanbul. L'attacco di kamikaze. L'aeroporto almeno 50 i morti. E queste le notizie principali proprio all'interno del sole 24 ore. Abbiamo visto la prima pagina. Ma dobbiamo andare a vedere la prima pagina e le prime pagine dei maggiori quotidiani locali. E quindi andare a approfondire quelle che sono state le notizie che hanno caratterizzato la giornata di ieri in Calabria. Partendo dalla Gazzetta della Sud. Edizione di Cosenza. Andiamo a leggere i titoli principali. E a centro pagina il titolo principale è legato alla nuova giunta occhiuto a Cosenza. Insediata la giunta occhiuto. In carica Vittorio Sgarbi, Iole Santelli, Padre Fadele e Matilde Lanzino. Ieri il sindaco di Cosenza ha presentato la squadra con cui amministrerà Palazzo De Bruzzi. E a Palazzo De Bruzzi c'eravamo anche noi. Guardate. Manca ancora la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Ma nel frattempo Mario Occhiuto ha nominato la sua squadra di governo. Nessuna sorpresa nel corso della presentazione ufficiale ospitata nel salone di rappresentanza di Palazzo De Bruzzi. Iole Santelli sarà vice sindaco con delega alle relazioni istituzionali con l'Unione Europea all'attuazione del programma, al coordinamento dei fondi e alla programmazione 2014-2020. Vittorio Sgarbi si occuperà del centro storico Padre Fedele Bisceglia del contrasto alla povertà, al disagio, al pregiudizio razziale e religioso. Matilde Spadafore Lanzino ha accettato di ricoprire l'incarico di assessore alla scuola e alle pari opportunità. Francesco Caruso avrà la delega alla riqualificazione urbana. Vi conferme per Luciano Vigna, per lui delega a bilancio, tributi e patrimonio, Rosaria Succurro, assessore alla comunicazione, turismo e marketing territoriale, Carmine Vizza, benessere, qualità del tempo e degli spazi, sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili, e Loredana Pastore, che si occuperà di crescita economica urbana, attività economiche e produttive, commercio, artigianato, sistema fieristico. Il sindaco Occhiuto ha tenuto le delega alla pianificazione urbana e mobilità sostenibile, alle risorse umane e alla polizia municipale. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Torneremo anche nell'edizione di oggi sulla nuova giunta Occhiuto a Cosenza. Andiamo a completare la prima pagina della Gazzetta del Sud, proprio l'edizione di Cosenza, centro pagina anche la fotonotizia, con una nuova intimidazione, colpita una piccola azienda di olio biologico a stilo, tagliati 13 alberi di ulivo nel dettaglio, nuova intimidazione a soci e aziende del consorzio Goel Bio. I gnoti a stilo nella notte, tra sabato e domenica, ma la notizia è stata resta nota solo ieri, hanno tagliato infatti 13 piante d'ulivo, di proprietà di un'azienda locale che produce olio biologico per il consorzio Goel. Taglio alto sull'edizione di Cosenza, invece legato ad un'altra notizia di cronaca e ad un'altra morte sulle strade Calabresi, sulla strada statale 283, tra San Marco Scalo e l'autostrada Schianto Fatale. Ad un centauro muore proprio sul colpo a Montalto Uffugo, strade a rischio, primi rimedi e poi dalla provincia in breve in Civetta, Paola, mare sporco, la procura intensifica le indagini. A Castrovillari invece, stadio Rende, via libera dalla Alega, con il Castrovillari rientrato tra le grandi del massimo torneo di lettanti e poi Cassano, Forum No, Triv, Regione Sotto, Accusa, Corigliano, emergenza migranti. Stamattina un nuovo sbarco, nuovo sbarco invece che c'è stato anche nella giornata di ieri a Vibo Valenzi, è stato uno dei più numerosi, ne sono arrivati di disperati altri 700, erano più di 700, tra di loro anche un bimbo appena nato, ma anche un cadavere di un uomo. Dal dolore per la morte di un uomo alla gioia di un bimbo appena nato, nel mezzo il sogno di una vita migliore, altalena di emozioni che hanno contraddistinto il nuovo viaggio della speranza di centinaia di migranti, ne sono arrivati altri 700 sulle coste calabressi, tutti regolarmente sbarcati al porto di Vibo Marina. Nelle ultime ore erano stati raccolti a largo delle coste libiche dalla marina militare. Considerata la grandezza della nave sulla quale viaggiavano, l'arrivo sulle banchine dello scalo vibonese è avvenuto tramite delle moto vedette. 30 persone per volta. Al termine delle operazioni se ne conteranno 761, tra di loro 152 donne, 71 minori e 536 uomini. È il terzo sbarco dall'inizio dell'anno nel porto vibonese, uno dei più numerosi. A bordo anche un bimbo appena nato, subito messo in una culla incubatrice, ed un cadavere di un uomo morto per arresto cardiaco. Sono le due facce della speranza di un futuro meno complicato. Dopo i controlli sanitari ed accertamenti di sicurezza del caso, i migranti saranno trasferiti e suddivisi secondo il piano di ripartizione ministeriale. Solo un centinaio resteranno in Calabria. Da Vibo Marina, Alessio Buompasso, per la Cineus 24. Restando in tema, a Cosenza, nel cuore del centro storico, a Palazzo Gervasi, in maniera particolare, sarà destinato ad ospitare proprio un centro polifunzionale che andrà proprio ad accogliere gli immigrati giunti sulle nostre coste. Sito nel cuore del centro storico e restaurato dall'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi, grazie ad un investimento di risorse comunitaria montanti a circa 1 milione e 100 mila euro, Palazzo Gervasi, storica residenza del XV secolo, sarà destinato ad ospitare un centro polifunzionale per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati extracomunitari regolari. Adesso sarà necessario individuare il soggetto gestore attraverso un bando pubblico rivolto alle associazioni di accoglienza le cui linee guida sono state illustrate dalla dirigente del settore welfare, Giuliana Misasi, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella Sala Quintieri del Teatro Vendano alla quale ha partecipato anche il direttore dei lavori, Michele Fernandez. Il bando, di durata quinquennale, individua le aree di intervento per come già indicate dal PON. Nello specifico, Palazzo Gervasi sarà sede di laboratori di formazione linguistica e per la mediazione linguistico-culturale di un Internet Social Point, di uno spazio di socializzazione e ristoro per le donne immigrate. Nel centro polifunzionale troveranno posto anche una sala multiculto, un centro di accoglienza diurna per minori figli di immigrati e uno sportello di orientamento per l'inclusione degli immigrati extracomunitari regolari. La volontà dell'amministrazione è quella di fare rete, per questo saranno privilegiate le associazioni che proporranno progetti in partenariato. Salvatore Bruno per la CNews 24. Andiamo su Gazzetta del Sud, prima pagina, edizione di Catanzaro, Crotone Lamezia e Vibo Valencia. Andiamo a leggere i titoli principali. Il titolo principale riguarda la sanità e soprattutto le regole per le assunzioni. Il 26 luglio, nuova verifica sull'attuazione del piano di rientro, definita nel corso di un incontro tra struttura commissariale, dipartimento e aziende. Nel dettaglio, fissata proprio per il 26 luglio a Roma, la prossima verifica sullo stato di attuazione del piano di rientro della sanità calabrese. Il tavolo a Duce ha convocato per un confronto con i ministeri affiancati, salute e economia, la struttura commissariale, quella dipartimentale e l'advisor KPMG. Diverse le questioni sul tappeto. Lo stato di attuazione della riorganizzazione delle reti ospedaliere, territoriale e dei laboratori, dei sistemi emergenziali e di trasporto ad essi collegati. Il TIN e lo STEN. L'adeguamento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Nei giorni scorsi, tra la struttura commissariale, il Dipartimento regionale, i direttori generali e commissari straordinari delle aziende ospedaliere e territoriali, all'ordine del giorno dei lavori e le modalità di reclutamento, delle oltre 600 unità a tempo determinato per sei mesi, autorizzate dai decreti commissariali 54, 55 e 56 emessi nei giorni scorsi, al fine di superare le emergenze strutturali determinate dalla carenza di personale, quelle particolari legate alla stagione estiva. Questo è il titolo principale sull'edizione della Gazzetta del Sud di Catanzaro Crotone, La Mezzia e Vibo. Ha invece taglio alto legato alla luce sull'omicidio di Vincenzo Montilla. Dopo 16 anni svelata l'uccisione proprio di Vincenzo Montillo, la vendetta movente dell'omicidio. E in merito abbiamo intervistato proprio il procuratore aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri che ha ricostruito proprio non solo il movente ma un po' tutta la situazione che ha portato a questo omicidio. Questo ragazzo di 34 anni era già un pregiudicato, quindi era già stato insomma attenzionato dalle forze dell'ordine. Beh sì, Montilla Vincenzo è stato appunto nella ricostruzione che è stata offerta dagli atti, che viene fuori dagli atti con le dichiarazioni ai collaboratori, con i riscontri investigativi di natura intercettiva, di natura oggettiva, sopra luoghi e accertamenti svolte all'epoca da parte dei carabinieri della compagnia della Mezzia Terme. Diciamo è stato assassinato o secondo quanto è ricostruito in quanto ritenuto responsabile, tra virgolette, della carcerazione avvenuta anni prima di Pulice Pietro. Montilla era stato in un primo momento arrestato per un omicidio, era stato poi scagionato e delle dichiarazioni della compagna di Montilla evidentemente ritenute dall'assassino quale istigate dallo stesso Montilla è stato individuato la responsabilità, riconosciuto la responsabilità del Pulice Pietro che aveva scontato anche un periodo di detenzione. Questa era una infamità come la riferiva lui ad alcuni suoi sodali, era un'infamità che lui ha inteso lavare col sangue molti anni dopo e così è avvenuto. Montilla è stato in pratica nella costruzione svolta, è stato attirato in una trappola e qui è stato assassinato da Pulice Pietro. Pulice Pietro che è deceduto poi sempre per un omicidio violento all'interno delle dinamiche della cosca a Giampà e è stato ucciso nel 2005, dicevo. Quindi oggi noi procediamo nei confronti dell'unico soggetto che è rimasto ancora in vita tra i responsabili di quel fatto omicidiario. Siamo riusciti a ricostruire tutti i partecipanti, oggi procediamo nei confronti dell'unico rimasto in vita che è Chirico Domenico. Andiamo avanti e dobbiamo completare la prima pagina Catanzaro Crotone e la Mezzia Vibo della Gazzetta del Sud, notizie dalla provincia e dai territori. Catanzaro Market rapinato a Santa Maria, due condanne. Alla Mezzia Terme, fratelli D'Agostino, una soluzione ed una condanna. Nel frattempo è arrivata anche la soluzione per gli appalti a tre. Alla Mezzia Terme per Mazzei e poi a Ciron Marina, incidente sul lavoro. Muore un 43enne, poi a Vibo Valencia, detenzione di armi, tre anni a Peppe Arena e sempre a Vibo, sorpreso, a smontare un guardrail in autostrada. Anche lui fermato. Andiamo su Reggio, sempre Gazzetta del Sud di Reggio Calabria. Andiamo a leggere insieme il titolo. in primo piano riguarda le risorse idriche e le falle del sistema. Acqua, le falle del sistema. Blackout, perdite e guasti. La città continua a fare conti con la sete. Molti problemi ieri nell'erogazione. Il centro storico è rimasto a lungo, a secco. E poi, in titolo, la parte alta, il taglio alto della Gazzetta del Sud sequestrati beni per un milione. Nel mirino, il patrimonio di un fedelissimo del clan di Rizziconi, sempre a Reggio, ospedale, chiesto al DG di non lasciare. Ma sull'ospedale riuniti di Reggio Calabria sale alto l'allarme proprio del segretario Will FPL, Nuccio Azzara, che ai microfoni del nostro programma di approfondimento e fatti in diretta ha raccontato questo tipo di scenario. Guardate, sono immagini forti. Noi ci ritroviamo, che aspettiamo dal 2012, anno in cui è stata proclamata la pronta realizzazione della sala mortuaria. Sono passati quattro anni. Sala mortuaria è quella che era un ambiente angusto, dal quale noi possiamo dedurre, da un punto di vista emblematico, la mancanza di dignità per la morte, per il dolore della gente, perché non è un posto atto a ricevere, voglio dire, in maniera dignitosa le salme, per dirla in maniera eufemistica. Poi, per quanto riguarda l'intero manufatto, credo che l'ospedale sia il posto meno sicuro in caso di calamità, in caso di terremoto. Cioè, dovrebbe essere invece un discorso completamente diverso. Nel caso di un terremoto, l'ospedale dovrebbe essere un punto di riferimento di raccolta. Ecco, questa annuncia, torniamo indietro, chiedo alla regia di tornare indietro. Questa è una delle immagini più crude. Capite bene, insomma. È un'immagine di qualche mese fa, che noi avevamo portato a compendio delle nostre denunce. Poco è cambiato rispetto a questo, se non un'operazione di macchiage. Questa è la situazione all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Torneremo proprio ad approfondire questo tipo di situazione. Restano le notizie in civetta, in sintesi dalla provincia, sulla Gazzetta del Sud, edizione di Reggio, escalation di intimidazioni, visita del capo della polizia, Gioia Tauro invece, azzerati i vertici, IAM, lavoratori in solidarietà, Rosarno, il sindaco ed A, contro il centro di accoglienza nell'ex liceo a Siderno, ex ospedale senza custodi, saccheggiato dai ladri. Questa è la prima pagina, Gazzetta del Sud di Reggio, che va a completare proprio la panoramica all'interno della Gazzetta del Sud. Passiamo al quotidiano del Sud. Prima pagina che resta più o meno identica per tutte le edizioni. Siamo sull'edizione di Cosenza, la Regione, bolli non pagati, rate per tutti, dilazione del pagamento fino a 72 mesi, per debiti superiori a 35 mila euro, serve una garanzia, la decisione del Consiglio, sono in arrivo 350 mila, cartelle esattoriali, la nuova norma, non prevede differenzazioni in base al reddito. E poi lo vedete a centro pagina la fotonotizia e la nuova squadra di governo della Sindaco Chiuta, Cosenza, battezzata proprio la Giunta Occhiuto, confermati sgarbi, Padre Fedele e Matilde Lanzino. Eccola qui, proprio la squadra. E ancora Tonino ucciso per errore, il diario della memoria, proprio sul quotidiano del Sud, del delitto majorano a Paola nel 2004, dalla moglie Aurora, un racconto di rabbia e dolore. Si parla ovviamente anche dell'attacco a kamikaze in aeroporto, terrore ad Istanbul. E poi il taglio basso, sopralluoghi in città, dei due boss pentiti con i carabinieri in diverse scene del crimine per trovare riscontri alle loro dichiarazioni, trattenuti in caserma, le persone che hanno riconosciuto Bruzzese e Lamanna. Questo è il taglio basso sull'edizione di Cosenza, cambierà soltanto, è il taglio basso nelle altre edizioni, andiamo a leggerlo insieme. Edizione di Catanzaro La Mezzia e Crotone Alla Mezzia il carpentiere fu vittima di una vendetta, l'abbiamo visto, abbiamo sentito anche i particolari della procuratore aggiunto Bombardieri, fu vittima di una vendetta, arrestato il conducente della moto con a bordo il killer, a sua volta assassinato nel 2005, svolta nel delitto avvenuto nel 2000, la vittima era tornata in Calabria per le ferie. Andiamo anche sull'edizione di Reggio Calabria, l'assessore Marciano giovedì in procura, prima dell'incendio dell'auto di famiglia aveva ricevuto una serie di lettere anonime, la titolare dei lavori pubblici è stata già ascoltata dal comitato per l'ordine e la sicurezza. Per chiudere anche la panoramica sul quotidiano del sud andiamo sull'edizione di Vibo Valencia, antenne abusive il caso a Proda in Consiglio dopo le indagini del sequestro la minoranza ha chiesto un ordine del giorno urgente avanzata una serie di proposte sul controllo di onde elettromagnetiche questa anche la prima pagina del quotidiano del sud edizione di Vibo Valencia non ci sono altri aggiornamenti allora vi rimando al prossimo apportamento della nostra informazione a partire dalle ore a 14 a voi tutti una buona giornata ad Alessio Bompasso visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal 30 maggio le edizioni della C News 24 cambiano orario alle 14 alle 19 e 30 alle 22 e 30 e alle 24 i calabresi sono informati che ci sono